Sta guardando, c'è un tizio che sta guardando dalla finestra qua, però non ci faccio caso. Guardate la chiesa. È davvero grande quel... Seminario qua. Prima avevamo visto dietro un altro video, adesso qua davanti... Non so, c'è un tizio che mi sta osservando. Spero che non vada a chiamare carabinieri, polizia o altro. Guardate, è veramente impressionante la sua grandezza. Questa è l'ingresso principale. Questa è l'ingresso principale. Adesso andiamo a vedere la chiesetta che è veramente distrutta e vicino solamente. Guardate... La chiesetta che finì ha fatto... Là c'è l'altare. Ahia... C'è ancora il tizio. Mi sto osservando da fuori un tizio. Spero che non chiami, come ho detto prima, carabinieri, polizia o altro. Guardate, è praticamente completamente crollata. Là c'è l'altare. Si vede ancora? Qualche affresco. Non... Trasps... analyze... Il tizio carabinieri... Ressportate... degli altri rifrogenieri. Etrù... ò vado a vedere l'ultimo vedete il tizio che mi sta osservando praticamente con la casetta in fondo vedete le altre casette sono abili sono praticamente abitate c'è un tizio sotto la tenda so se si riesce a vedere che mi sta osservando però adesso vedo che se n'è andato qui sono praticamente nel cortile della struttura grazie 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 agli mamma grazie 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 a Shiva grazie sul balcone ma è sulla finestra. Vabbè, io faccio finta di niente. Ecco qua l'ingresso. Bene, ora me ne vado. Anche per oggi l'esplorazione urbana di questo posto abbandonato è terminata. Guardate che vista è sempre il tizio, la finestra, che mi osserva. Vedete dove c'è la tendina blu. Accanto c'è una finestra, quel tizio mi sta sempre osservando. Bene, qua c'è un'altra chiesetta, ma non è abbandonata. Bene, ciao a tutti. Grazie. Grazie.